Finalmente con la tazzina del caffè perché il caffè l'avevo fatto apposta per la linea, in diretta e c'è scrittoci qualcuno che mi vede, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti alla diretta Oggi abbiamo un sacco di cose da fare, andiamo da Natalia Cattelani per un dolce, perché ci siamo, ci stiamo avvicinando al weekend, domani è sabato, quindi perché no E poi andiamo da Marco Battega e da Marco Ruffini, due Marco nella prova del cuoco, uno è stellato e l'altro invece parlerà di lievito, di pizza Avevo ieri una sorpresa per noi, allora vai Cattelani, intanto saluto tutti, scusate il ritardo ma purtroppo adesso capiremo se è giusto ancora farlo a questo orario O magari anticipare o posticipare, vediamo con tutti quanti, Luisa Messeri ciao, sì ci siamo, è meglio tardi che mai, il caffè alla linea Allora, è quasi momento di pranzo naturalmente, vediamo di collegarci con Natalia Cattelani, Marco Ruffini c'è, ci sono tutti stamattina Chef Natale Giunta, Diego Bongiovanni, mamma mia, Natalia Cattelani, lei volevo, ciao Natalia, la nostra mamma in cucina Intanto sappiamo già come, diciamo la sua, non mi dite che fa come ieri nella linea perché non ci sono, basta oggi No, 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 c'è, c'è, piano piano c'è, problema di assemblamento tutti a questo orario, Natalia, eccola, aggiungiamola, buongiorno